Ciao a tutti e benvenuti a questa nuova puntata di Best Cinema Trailer, ecco a voi la risposta alla domanda con cui vi ho lasciati la volta precedente. Il regista a cui per primo fu proposta la direzione del film 50 sfumatori di grigio è l'inglese Joe Wright, meglio noto con il loro pregiudizio, espiazione e Anna Karenina. Ma torniamo a noi, oggi vi propongo una pellicola interamente prodotta in Germania e diretta da Christian Pezzold. Il titolo è Il segreto del suo voto e uscirà nei cinema italiani il 19 febbraio. Non sono più io. Mi riconosci? Non posso andare in Palestina. Io non sono ebrea. Certo che lo sai, che tu la voglia o no. Ed è per questo che volevano ucciderti. Sto cercando Johnny. Lavora qui. Dove sono le ragazze? Eh? Assomiglia a una persona. A chi? A mia moglie. Forse è ancora viva. È morta. Questo sarà il mio ritorno. Lo hai visto? Sì. E ora so che lui la ama. Il film narra la drammatica storia di Nelly, che fungita da Auschwitz con un nivoto sfigurato, torna nella città natale in cerca del marito. L'uomo, pur non riconoscendola, ne avverte la somiglianza con la moglie e le chiede di assumerne l'identità. Lascio a voi il piacere di scoprire la storia andando a vedere il film nel cinema. Qual è il titolo originale della pellicola? E qual è il significato che vi si ce l'ha dietro? Provate a rifletterci. Io vi darò la risposta nella prossima puntata. Ciao!